ben trovati amici del web nel video precedente abbiamo cominciato a parlare di colesterolo abbiamo visto a cosa serve e perché è importantissimo ma allo stesso tempo perché può diventare un nemico e in quale modo la dieta giochi un ruolo cruciale nel determinare i nostri livelli di colesterolemia modulando la produzione endogena di colesterolo nel nostro fegato se non avete visto quel video vi consiglio di farlo perché senza quelle informazioni quello che diremo oggi sarebbe privo di senso l'obiettivo di oggi è quello di capire una volta per tutte i diversi gradi di pericolosità del colesterolo in circolo nel nostro sangue le definizioni in realtà molto semplicistiche in parte fuorvianti di colesterolo buono e colesterolo cattivo e le cose a cui invece è importante prestare attenzione e per fare questo dobbiamo concentrarci sul modo in cui il colesterolo viene portato in giro nel nostro organismo farò del mio meglio per cercare di raccontare nel modo più semplificato possibile quella che in realtà è una biochimica molto complessa ma senza tralasciare nulla di importante ai fini pratici allora nel video precedente abbiamo parlato molto di colesterolemia cioè di concentrazione di colesterolo nel sangue ma attenzione il colesterolo è una sostanza lipidica per cui non può andarsi in giro nel sangue per i fatti suoi perché il sangue è acquoso e come sappiamo tutti l'olio nell'acqua non si scioglie ma si separa e va a galla perché è più leggero ed è per questo che tutti i lipidi con la sola eccezione degli acidi grassi liberi a catena corta o media che essendo molto piccoli e relativamente più polari possono andare direttamente in circolo leggandosi all'albumina sierica ma tutti gli altri che sono la stragrande maggioranza dei lipidi alimentari trigliceridi fosfolipidi e colesterolo per poter circolare nel sangue devono prima essere impacchettati in apposite navicelle che si chiamano lipoproteine di trasporto queste strutture hanno all'interno i lipidi idrofobici da trasportare principalmente trigliceridi e colesterolo mentre all'esterno hanno un rivestimento con uno strato di fosfolipidi con le loro code idrofobiche rivolte verso l'interno lipidico e le teste idrofile rivolte verso l'esterno acquoso sempre esternamente hanno anche tutta una serie di proteine che si chiamano apoproteine e sono necessarie per il traffico e il riconoscimento delle lipoproteine stesse da appositi recettori posti sulla superficie delle varie cellule o di altre lipoproteine ecco con questo stato esterno idrofilico le lipoproteine possono circolare liberamente nell'ambiente acquoso del sangue e portare al loro interno le molecole lipidiche senza che creino alcun problema cominciamo dai lipidi che arrivano dal cibo che vengono assorbiti dagli enterociti intestinali devono poi essere mandati in circolo nel nostro corpo anche loro ovviamente devono essere prima impacchettati in lipoproteine le principali lipoproteine assemblate nelle cellule della parete intestinale si chiamano chilomicroni e la loro composizione riflette in larga parte le proporzioni lipidiche del cibo che abbiamo mangiato per cui in genere sono molto ricche di trigliceridi tra l'80 e il 90 per cento e per questo tendono a essere molto larghi e ad avere una densità molto bassa ricordiamoci che i lipidi sono meno densi delle proteine ora il loro compito principale è portare questi lipidi così impacchettati al fegato che poi deciderà cosa farne ma siccome i chilomicroni sono così larghi quando escono dagli enterociti intestinali non riescono a passare nei capillari quindi nel circolo sanguigno prendendo la vena porta che li porterebbe dritti al fegato e invece finiscono nella circolazione linfatica ed entreranno nel torrente circolatorio nella larga vena su clavia via il dotto toracico per cui per arrivare al fegato devono fare il giro lungo e durante questo lungo percorso nel sangue queste navicelle piene di trigliceridi di fatto il picco post brandiale di trigliceridi nel sangue altro non sono che i chilomicroni che cominciano a riversarsi nel torrente circolatorio ebbene durante questo percorso cominciano a rilasciare la gran parte dei loro trigliceridi direttamente alle cellule che ne hanno bisogno principalmente il muscolo che li usa a scopo energetico e il tessuto adiposo che li usa per riserva e questo può avvenire perché sulla parete dei vasi dove avvengono questi scambi si trova un particolare enzima chiamato lipoproteina lipasi che succhia i trigliceridi dalle lipoproteine e li porta dentro le cellule e così quando arrivano al fegato che è la loro destinazione finale i chilomicroni saranno svuotati di buona parte dei loro trigliceridi ma ancora molto ricchi di colesterolo il fegato li smonta preleva il loro colesterolo e decide cosa farne sulla base delle necessità del momento può usarne un po' per le sue stesse necessità o per costruire i sali biliari può decidere di buttarne via un po' attraverso la bile se è troppo oppure di rimandarlo in circolo nel sangue in modo che possa essere usato da altre cellule dell'organismo per mandare i suoi lipidi in circolo nel sangue il colesterolo ma soprattutto i trigliceridi che produce lui stesso o che mobilita anche il fegato deve impacchettarli nelle lipoproteine e quelle che si costruisce lui si chiamano VLDL acronimo per Very Low Density Lipoproteins rispetto ai chilomicroni le VLDL hanno un po' meno trigliceridi e un po' più colesterolo perché come abbiamo visto molti trigliceridi sono già stati distribuiti prima per cui le VLDL sono un po' più piccole e un po' più dense dei chilomicroni e il colesterolo che il fegato manda nel sangue nelle VLDL non è solo quello esogeno arrivato dal cibo attraverso i chilomicroni ma anche e soprattutto quello endogeno cioè che si è fabbricato lui stesso perché come abbiamo imparato la volta scorsa il fegato è capace di sintetizzare colesterolo per conto suo a partire dagli acidi grassi o dal glucosio ora le nostre VLDL nel sangue fanno lo stesso lavoro dei chilomicroni cioè cedono i loro trigliceridi alle cellule via l'ipoproteina lipasi e così facendo diventano sempre più dense e sempre più ricche in proporzione di colesterolo così svuotate di trigliceridi diventano più piccole un po' più dense e vengono chiamati VLDL remnants cioè quel che rimane delle VLDL alcune di queste se ne tornano al fegato ma tipicamente il loro destino è mentre sono ancora in circolo nel sangue di riarrangiare un po' le loro apoproteine di superficie e rimodellarsi in un nuovo tipo di lipoproteina che a questo punto chiamiamo LDL low density lipoprotein ancora più piccola e più densa. Le LDL sono le principali lipoproteine di trasporto del colesterolo nel nostro sangue e sono quelle che finalmente sono in grado di consegnarlo alle cellule che ne hanno bisogno per la loro crescita per la sintesi di vitamina D o degli ormoni steroidei. Il modo in cui le LDL danno il colesterolo alle cellule è completamente diverso dal modo in cui i chilomicroni e le VLDL danno i loro trigliceridi. Come abbiamo visto VLDL e chilomicroni cedono alle cellule parte dei loro trigliceridi attraverso l'azione dell'enzima lipoproteina lipasi ma restano nel sangue e poi continuano a circolare. Le LDL invece si legano a uno specifico recettore di superficie sulle cellule e vengono completamente inglobate dentro la cellula dove vengono smontate per recuperarne il colesterolo e a quel punto scompaiono il colesterolo e via dal sangue dentro le cellule la lipoproteina riassorbita e tutti sono contenti. Il grosso problema con le LDL è però che se le cellule non hanno bisogno di colesterolo o se abbiamo in giro nel sangue più colesterolo di quanto i vari tessuti del nostro corpo abbiano bisogno le cellule non metteranno fuori i recettori per accalappiarle e quindi le LDL non saranno rimosse dal sangue dove rimarranno e continueranno a circolare. Un tempo di residenza prolungato delle LDL nel torrente circolatorio le rende suscettibili a tutta una serie di alterazioni strutturali in particolare l'ossidazione dei loro lipidi e l'alterazione della struttura delle apoproteine. Queste alterazioni compromettono la capacità delle LDL di potersi legare ai loro recettori specifici sulle cellule per cui anche ove le cellule avessero bisogno di colesterolo queste LDL danneggiate non verrebbero riconosciute. Al contrario le LDL danneggiate hanno maggiore affinità per un altro recettore a specifico chiamato scavenger receptor che si trova principalmente sui macrofagi i quali si riempiono così di LDL danneggiate muoiono e diventano foam cells il marchio distintivo del processo di aterosclerosi. Ecco perché le LDL ossidate sono tra le cause principali dell'iniziazione di lesioni aterosclerotiche sulla parete delle nostre arterie e sono fortemente associate al rischio di malattie cardiovascolari. Un buon apporto di antiossidanti con la dieta naturalmente è molto importante tra le altre cose anche per mantenere un buono stato antiossidante nel nostro plasma e quindi prevenire questa pericolosa ossidazione delle LDL. Un altro aspetto importante delle LDL è la loro dimensione. Ovviamente quella di LDL è un'etichetta che mettiamo noi per fare ordine in quello che studiamo ma come tutte le etichette sono solo invenzioni del linguaggio per raggruppare cose simili in una stessa categoria però la categoria è un'invenzione nostra non esiste in realtà. Così come noi mettiamo l'etichetta di rosso o verde a quello che in realtà è tutta una gamma di colori diversi lungo lo spettro cromatico ed è anche difficile segnare esattamente su quello spettro dove finisce un colore e dove ne comincia un altro. E così di LDL come di tutte le altre lipoproteine ce ne sono in realtà tutta una gamma lungo un continuum di densità e dimensioni. In questa gamma si dà il caso che le LDL più piccole e quindi più dense abbiano un potenziale aterogenico molto più elevato perché hanno un'affinità minore per i recettori LDL e questo perché le loro apoproteine cambiano leggermente la loro conformazione e fanno più fatica ad essere riconosciute. Di conseguenza tendono a rimanere più a lungo in circolo nel sangue e quindi sono più suscettibili a danneggiarsi ad ossidarsi e ad essere inglobate via scavenger receptor dai macrofagi che poi diventano foam cells. Ma non solo le LDL più piccole hanno anche maggiore facilità a legarsi direttamente alla parete dei vasi sanguigni e a penetrare attraverso l'endotelio. ecco perché la concentrazione di LDL piccole e dense è considerato un fattore di rischio indipendente per le malattie cardiovascolari vale dire un fattore a sé nel senso che uno può avere il colesterolo totale e quello LDL perfettamente sotto i limiti ma se le sue LDL sono piccole e dense è comunque a rischio. Non abbiamo ancora capito bene per quale ragione alcuni soggetti tendano a produrre queste LDL più piccole probabilmente ci sono fattori genetici ma sembra esserci una correlazione importante anche con i livelli totali di trigliceridi perché quando abbiamo tanti trigliceridi in giro le LDL hanno dentro più trigliceridi e meno colesterolo quando si formano poi i trigliceridi li cedono via l'ipoproteina lipasi e alla fine quando gli rimane solo il colesterolo rimangono piccole e dense perché quel colesterolo è meno di quello che dovrebbe essere in ciascuna LDL. Per cui alla fine avremo una situazione per cui il colesterolo totale sarà ripartito su un numero maggiore di LDL più piccole invece che su un numero minore di LDL più grandi. Anche l'insulino resistenza è correlata una maggiore tendenza ad avere LDL piccole e dense qui però non è chiaro se si tratti di semplice associazione o di causalità. Sia come sia la dimensione dell'LDL è un'informazione importante purtroppo però quando misuriamo il colesterolo LDL con le normali analisi del sangue non abbiamo modo di sapere se quel colesterolo è portato in poche LDL grandi che è una situazione migliore o se è suddiviso in tante LDL piccole aumentando il nostro rischio cardiovascolare. Per avere questa informazione dovremmo misurare il numero di LDL non il colesterolo LDL ma è un'analisi piuttosto laboriosa. Per fortuna abbiamo modo abbastanza affidabile per stimarlo con un'analisi assai più semplice che è il dosaggio dell'apoproteina B100. Ora dalla storia di oggi vi ho risparmiato tutta la complessa vicenda dei diversi tipi di apoproteine portati dalle diverse lipoproteine ma qui basti sapere che ogni lipoproteina porta una e una sola apoproteina del tipo B per cui è evidente che a parità di colesterolo più le lipoproteine sono piccole più sono numerose e quindi ci saranno più apobie per cui il rapporto apobie su colesterolo LDL è tanto più elevato quanto più piccole sono le LDL che lo trasportano. Ma torniamo adesso alle nostre LDL che circolano nel sangue. Abbiamo detto la situazione migliore per noi è che vengano rapidamente riconosciute da un recettore cellulare per le LDL e portate dentro le cellule dove non fanno più danno a nessuno. Ma che cosa determina se questo avviene o meno? Tutte le nostre cellule possono aumentare o diminuire l'espressione di recettori per le LDL sulla base delle loro necessità. Se una cellula ha già tutto il colesterolo di cui ha bisogno non farà altro che ridurre il numero di recettori per le LDL sulla sua superficie e così proteggersi da un eccessivo inutile accumulo di colesterolo che dal punto di vista della cellula è fondamentale no? Se continuano a bussarvi alla porta per vendervi aspirapolveri non è che potete riempirvi la casa di aspirapolveri. A un certo punto non li aprite neanche più. Ma per questo sistema di regolazione omeostatica che protegge la cellula ci tocca pagare un prezzo molto alto perché in questo caso gli aspirapolveri che rimangono in strada sono LDL che rimangono pericolosamente in circolo nel sangue dove si danneggiano, si ossidano e finiscono per depositarsi sulle nostre arterie. Ma l'epopea non è finita qua perché se la cellula al contrario ha bisogno di colesterolo di opzioni in realtà ne ha due diverse. Primo può aumentare il numero di recettori LDL sulla sua superficie in modo da accalapiare il colesterolo che circola nel sangue ma anche secondo ha l'opzione di costruirselo da sola perché l'enzima del colesterolo è a disposizione di tutte le cellule del nostro corpo che quindi possono indurlo in modo che cominci a fabbricarlo a partire dagli acidi grassi o dal glucosio. Dal punto di vista della salute cardiovascolare noi preferiremo ovviamente la prima opzione perché ci consente di togliere in fretta il colesterolo dal sangue dove potrebbe fare danni. Dal punto di vista della cellula però se ha un'abbondanza di materia prima non è così scontato. Se voi avete bisogno di un aspirapolvere ma avete in casa tutti i pezzi necessari e le istruzioni per assemblarli ve lo fate da soli invece di pagare per quello che vi vogliono vendere alla porta. E ovviamente le spinte sono le stesse che già sappiamo perciò una dieta ricca di grassi saturi, grassi trans e cibi ad alto indice glicemico come zuccheri aggiunti e cereali raffinati induce l'attività dell'enzima del colesterolo e quindi non solo promuove la sintesi endogena di colesterolo ma ostacola anche la sua rimozione dal circolo sanguigno dove rischia di fare più danni perché evidentemente su una cellula il suo colesterolo se lo sta già facendo per conto suo non ha bisogno di andarlo a prendere dal sangue. Di converso una dieta con pochi saturi, basso indice carico glicemico e fattori che inibiscono attivamente l'enzima del colesterolo come le statine o i prodotti di fermentazione della fibra solubile non solo riducono la produzione endogena di colesterolo ma inducono anche quei meccanismi compensatori quali appunto una maggiore espressione di recettori per le LDL che consentono di rimuovere più velocemente il colesterolo dal sangue e questi meccanismi compensatori sono mediati in particolare da un fattore di trascrizione chiamato SREBP2 che alcuni di voi forse ricorderanno in quanto lo abbiamo citato in altre occasioni nei nostri video. E per finire ci resta ancora da introdurre un ultimo tipo importante di lipoproteine di trasporto che sono le HDL high density lipoproteins che sono ancora più piccole e proporzionalmente più ricche di proteine e quindi decisamente più dense rispetto a tutte le altre lipoproteine che abbiamo incontrato finora. La funzione principale di queste lipoproteine è il trasporto inverso di colesterolo. In altre parole le HDL sono navicelle proteiche che partono vuote dal fegato dove vengono prodotte e mentre sono in circolo nel sangue maturano acquisendo materiale dalle varie cellule o dalle altre lipoproteine che sono in circolo e in particolare rendono possibile l'efflusso di colesterolo dalle LDL rimaste in circolo o dalle cellule morte o anche molto importante dai macrofagi dalle foam cells sulle pareti arteriose se lo caricano e lo riportano indietro al fegato che provvederà al suo smaltimento. Il colesterolo che torna al fegato con le HDL ha una via preferenziale per essere eliminato attraverso la bile quindi non viene rimescolato al pool epatico di colesterolo ma tendenzialmente viene smaltito. Anche se il trasporto inverso di colesterolo è la funzione cardinale delle HDL queste lipoproteine svolgono anche altre funzioni molto importanti per la salute cardiovascolare ad esempio hanno attività antinfiammatoria vasodilatatrice antitrombotica e antiossidante perché portano su di sé importanti enzimi antiossidanti come la paraoxonasi e la glutatione perossidasi per cui la loro presenza riduce anche quel pericoloso rischio di ossidazione delle LDL circolanti di cui parlavamo prima. Per questo loro lavoro di recupero e smaltimento di colesterolo dalle LDL circolanti e dalle placche arteriose che le rende un po' le spazzine del colesterolo in eccesso della nostra circolazione e per tutte le loro ulteriori attività anti-aterogeniche che abbiamo appena visto le HDL vengono generalmente etichettate come il colesterolo buono mentre le LDL per la loro tendenza a rimanere nel sangue se in eccesso a danneggiarsi a depositarsi sulle arterie promuovendo il processo di eterosclerosi vengono etichettate come il colesterolo cattivo. Se si ossidano se sono piccole e dense sono ancora peggio il colesterolo cattivissimo del nostro titolo. In realtà di colesterolo ce n'è uno solo ed è sempre lo stesso e di per sé non è né buono né cattivo. Tuttavia a seconda delle navicelle in cui è trasportato lo etichettiamo come buono o cattivo sulla base di queste considerazioni. Ma ovviamente è una semplificazione perché anche le LDL o le HDL in sé non sono necessariamente buone o cattive. Quando noi facciamo l'analisi del sangue facciamo come una fotografia che vede la situazione in quell'istante. Noi non vediamo i flussi non sappiamo dove sta andando quel colesterolo però possiamo vedere il colesterolo totale nel sangue e possiamo vedere anche quanto di questo sta girando nelle navicelle LDL e quanto invece sta viaggiando nelle navicelle HDL. Siccome quello che sta viaggiando nelle HDL se ne sta tornando al fegato per essere eliminato non ci preoccupa per cui lo chiamiamo colesterolo buono. Quello invece nelle LDL non è che ci deve automaticamente preoccupare perché potrebbe essere semplicemente quella parte fisiologica di LDL che sta consegnando il colesterolo alle cellule che ne hanno bisogno e quindi non ha proprio nulla di cattivo. Se però vediamo di colesterolo LDL ce n'è un sacco e di HDL poco abbiamo ogni ragione di temere che quel colesterolo sia in eccesso rispetto al fabbisogno delle cellule per cui rimarrà nel sangue e per di più non ci sono nemmeno abbastanza HDL spazzine per toglierlo di mezzo. Ecco perché quando guardiamo i nostri valori di colesterolemia dobbiamo valutare non solo la quantità assolute ma anche i loro rapporti e soprattutto per LDL e HDL il loro rapporto conta molto di più delle loro quantità assolute. Se le HDL sono almeno un terzo delle LDL siamo tranquilli che riescono a lavorare bene anche se le LDL sono un po' al di sopra del limite raccomandato. Se invece le HDL sono meno di un quarto delle LDL allora dobbiamo preoccuparci di più anche se il nostro colesterolo è nei limiti perché significa che le HDL spazzine del colesterolo non sono abbastanza rispetto alle LDL e poverine fanno come chi vuole svuotare il mare con un secchiello fanno quel che possano per togliere di mezzo il colesterolo ma il risultato sarà inefficace. Ho questo il concetto è poi per calcolare questi rapporti c'è chi preferisce confrontare i trigliceridi e chi preferisce usare il colesterolo totale invece che quello LDL che di fatto è un valore quasi sempre stimato perché quasi tutte le analisi di routine misurano solo colesterolo totale HDL e trigliceridi. Il resto si stima con dei calcoli ad esempio i chilomicroni si assume che siano zero perché l'analisi del sangue l'avete fatta a digiuno e quindi si assume che tutti i trigliceridi siano nelle VLDL e siccome in condizioni normali le VLDL hanno circa 5 volte più trigliceridi che colesterolo si stima il colesterolo VLDL a partire dai trigliceridi dividendo per 5 purché i trigliceridi siano sotto i 400 milligrammi e a quel punto si stima il colesterolo LDL per differenza facendo colesterolo totale meno HDL meno VLDL cioè trigliceridi diviso 5 che è la formula di Friedwald. D'altra parte non è tutto oro quello che luccica e così come le LDL in sé non sono necessariamente cattive anche le HDL non sempre sono buone e questo perché anche le HDL possono essere o diventare disfunzionali proinfiammatorie e aterogeniche. È per questa ragione che alcuni farmaci molto promettenti che consentivano di aumentare i livelli di HDL si sono poi rivelati molto deludenti in fase di studi clinici aumentando invece di diminuire il rischio cardiovascolare perché invece questi farmaci aumentavano sì le HDL totali ma aumentavano quel tipo di HDL più grandi e disfunzionali che oltre a non riuscire a svolgere in modo efficiente il loro lavoro di trasporto inverso del colesterolo avevano attività proinfiammatoria e aterogenica. Per nostra fortuna le HDL indotte da una dieta equilibrate sono quelle del tipo buono e quindi almeno su questo fronte quando leggiamo che un tale alimento aumenta il colesterolo HDL possiamo stare tranquilli che è sempre una cosa positiva. Per riassumere le lipoproteine sono i riders che trasportano e consegnano i lipidi ai vari destinatari del nostro organismo. I chilomicroni e le VLDL fanno soprattutto consegne di trigliceridi alle cellule, i primi viaggiando dall'intestino al fegato, le seconde partendo dal fegato verso la periferia. Le LDL invece fanno soprattutto consegne di colesterolo alle cellule anche se le cellule in questo caso si portano dentro tutto non solo il carico ma anche il rider e la bicicletta. Le LDL però a volte non trovano l'indirizzo per cui continuano a girare a vuoto finché si alterano, buttano il loro carico e si fermano in mezzo alla strada che sarebbe la parete delle nostre arterie. Per fortuna ci sono anche le HDL che più che riders sono spazzini mandati in giro dal fegato a recuperare il colesterolo in eccesso o danneggiato o rimasto in giro o sulle arterie e riportarlo indietro per essere messo in discarica ed eliminato con la bile. Dal punto di vista della nostra salute cardiovascolare cosa ci preme dunque fare? Primo in generale evitare che il colesterolo totale sia troppo elevato. Secondo promuovere la clearance rapida delle LDL circolanti e per questo abbiamo due strategie. Uno del colesterolo che abbiamo avere il migliore rapporto possibile tra LDL e HDL in modo che queste HDL possano efficacemente riportare al fegato l'eventuale colesterolo in eccesso per l'eliminazione e poi due inibire la produzione endogena di colesterolo nel fegato e in tutte le cellule in modo da indurre il meccanismo compensatorio dei recettori LDL. Terzo posto che comunque un po' di LDL devono circolare per svolgere la loro funzione fisiologica di consegna del colesterolo e evitare a tutti i costi la loro ossidazione perché a quel punto non vengono nemmeno più riconosciute dai loro stessi recettori e non hanno altro destino possibile che fare danni alle nostre arterie. Quarto evitare di avere LDL piccole e dense. Quinto evitare di avere HDL disfunzionali. Ebbene si dà il caso che in ciascuno di tutti questi punti la dieta possa giocare un ruolo fondamentale. E allora con tutte le cose che abbiamo visto oggi più quelle che abbiamo imparato la volta scorsa adesso siamo pronti per fare il punto nel concreto di cosa possiamo fare con la dieta per tenere sotto controllo oppure abbassare attivamente i nostri livelli di colesterolo nel sangue. E per questo vi do appuntamento al prossimo video. Per ora invece vi ricordo il sito www.spaziosfera.com per trovare ulteriori contenuti e inviare le vostre domande di account Instagram, Twitter e Facebook at spaziosfera e poi la regola delle regole che è questa vita quieta. Mente lieta e moderata dieta. Tutto chiaro. Very food.